Lamiere, polistirolo, rifiuti da smaltire, non c'è più niente. Del Corpo Forestale dello Stato, con il supporto degli agenti della stazione di Vienminore, ha deciso di mettere i sigilli a capannone. Una lettera anonima, che secondo me in gran parte è un falso, con un'elencazione di quelli che potrebbero, secondo loro, essere dei rifiuti. Vorrei solo dire che secondo me non sono rifiuti speciali, 18 cassoni vuoti in metallo per uso industriale, oppure il frigorifero e 5 pompe idrauliche che ci servono per fare la neve nella piana della pista di fondo, un tornio, due battipista, vari bancali di cunetti stradali in pietra, una giostra in metallo per bambini, otto panchine in metallo, vari bidoni in metallo per la raccolta dei rifiuti che sono quelli che mettiamo nella pineta. Io contesto il fatto che questi, secondo me, non sono dei rifiuti, sono attrezzature e dei beni, fra l'altro messi all'interno di un cappannone di un deposito industriale, quindi un deposito del comune di Eschilpario, che era regolarmente chiuso come accesso al pubblico. L'edificio località Fondi è rimasto senza copertura, essendo crollata a seguito della neve nel 2009, quindi è stato impiegato come deposito comunale, mentre a primo piano è occupato dalla cooperativa Schimine. Secondo me era sufficiente che una volta ricevuta la lettera anonima, alle quali secondo me bisognerebbe poi dare un'importanza sempre minore e talvolta magari neanche considerarla. Però poniamo il caso che questa venga considerata perché può avere una sua valenza. La forestale veniva, mi diceva, sindaco, andiamo là, guardiamo insieme, c'è questo e questo da fare, le diamo 60 giorni di tempo, provveda, va bene. Nei 60 giorni il comune avrebbe provveduto, se obbligato a farlo, perché poi questo se lo voglio, voglio specificare. E lì sarebbe finita la questione. Tornavano, verificavano, è stato fatto bene, amici come prima, si è raggiunto un risultato da entrambe le parti. Questo secondo me è la procedura, il modo. Certe situazioni, certe così, un po' di polizia giudiziaria, insomma, mi lasciano molto perplesso.